... Emendamento per i tribunali da chiudere, rappresentato in Regione dal Movimento 5 Stelle. Contratti di sviluppo locale, sottoscritti oggi da Regione e azienda abruzzese. Morto l'ex sindaco di Tresacco, cordodio per Regino Fosca, aveva 67 anni. Crisi dell'economia abruzzese, dati resi noti dal coordinatore regionale di Forza Italia. Cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Geluca Ranieri, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, ha emesso la seguente nota in riferimento alla prevista soppressione di alcuni tribunali abruzzesi. L'emendamento al documento di economia e finanza regionale, da noi presentato ora per la seconda volta in Consiglio regionale, punta a far sì che la Regione attui ciò che già ha deliberato nel luglio 2015, a seguito di una nostra iniziativa che mette cioè a disposizione le risorse necessarie all'attuale della prevista intesa con il Ministero della Giustizia, finalizzata a realizzare in via sperimentale la gestione delle sedi giudiziarie di tribunali e procure della Repubblica di Avezzano, Lanciano, Sulmone e Vasto, con il coinvolgimento dell'ente Regione. Ci battiamo ormai da molto tempo per la salvaguardia dei tribunali abruzzesi, prosegue già da prima che il movimento entrasse in Consiglio regionale. Continueremo pertanto a sostenere la battaglia degli avvocati del Foro di Avezzano e di tutti i cittadini della Marsica perché il tribunale resti al suo posto. Abbiamo il dovere come rappresentanti del territorio di evidenziare l'impatto negativo che deriva dalla soppressione di presidi fondamentali per garantire il diritto di equo accesso alla giustizia di ampie zone di territorio, sancito sia dalla Costituzione che dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Appare chiara, infatti, l'importanza del lavoro che quotidianamente svolgono i presidi soppressi per rispondere alla domanda di giustizia. Né esempio lampante il Tribunale di Avezzano, il quale risulta fa i primi quattro distretti giudiziari abruzzesi per popolazione per domanda di giustizia. Domani presenteremo il nostro emendamento auspicando che si prenda atto che questa non è una battaglia del Movimento 5 Stelle ma una battaglia civile essenziale per il futuro della nostra regione, conclude Gianluca Ranieri. Un nuovo finanziamento di 25 milioni di euro che si aggiungono ai circa 175 milioni e mezzo stanziati dalla regione negli ultimi 29 mesi per il superamento e la mitigazione del rischio idrogeologico edraulico in 25 comuni abruzzesi. Le convenzioni con le amministrazioni comunali sono state firmate questa mattina a Pescara dal Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso e dai sindaci interessati. Le linee di intervento sono da prima per un investimento complessivo di 5 milioni di euro riguarda 6 comuni. Rocca Scalegna 500 mila euro, Bizzo Ferrato 865 mila, Carpineto della Nora 900 mila, Roio del Sangro con 638 mila, Serra Monacesca 250 mila e Cermignano 1 milione. Di altri interventi invece sono finanziati direttamente dalla regione attraverso la nuova programmazione del fondo 2014-2020 e interessano Chieti 1 milione 180 mila euro, Vasto 800 mila, Bacri 1 milione 200 mila, Tresacco 1 milione, Bellante 1 milione 500 mila, Castiglione Messer Raimondo 1 milione 200 mila, Ripatiatina 1 milione 100 mila, Casa Scanditella 1 milione 100 mila, Casa Lincontrada 1 milione 100 mila, Castel Guidone 190 mila euro, Rocca Montepiano 865 mila, Rocca Morice 100 mila, Padietta 350 mila, Castiglione Messer Marino 1 milione 500 mila, Letto Manoppello 1 milione 750 mila, Prezza 1 milione 550 mila, Monte Nerodomo 600 mila, Civitella Messer Raimondo 346 mila. È la prima volta sottolineato il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso che la regione riserva così tanta attenzione ai territori sul fronte della difesa del suolo. Le associazioni ecologiste Penino Ecosistema Lipu Abruzzo e Altura Abruzzo hanno presentato oggi un esposto alle procure della Repubblica dell'Aquila e di Avezzano e a comandi regionale e provinciale del Corpo Forestale dello Stato per evidenziare un possibile conflitto di interessi del consigliere regionali dell'Abruzzo Lorenzo Berardinetti in merito all'iter di approvazione della proposta di legge regionale modifiche e integrazioni sulle foreste e pascoli a firma di Berardinetti e Pepe. Si fa presente che la controriforma della legge regionale quadro per la tutela delle foreste e dei pascoli è stata approvata il 23 novembre scorso da parte della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale presiduta da Lorenzo Berardinetti. Tra i soggetti privati che sarebbero favoriti dalle nuove norme sono inclusi alcuni importanti consorsi forestali, uno dei quali il Consorzio Forestale Marsica Occidentale, è costituito tra le amministrazioni comunali di Sante Marie, Peretto e Rocca di Botte ed alcuni soggetti privati. Le associazioni chiedono all'autorità giudiziaria di accertare la sussistenza di un conflitto di interessi di Lorenzo Berardinetti che si adopera per la presentazione in quanto consigliere regionale e l'approvazione in quanto presidente della Commissione Agricoltura di una proposta di legge che, se approvata, favorirebbe direttamente il Consorzio Forestale Marsica Occidentale, del quale è socio in quanto sindaco del Comune di Sante Maria. Grave svista delle associazioni a tutela degli uccelli hanno denunciato il mio presunto conflitto di interesse, ma il Comune di Sante Maria è realtà, uscito dal Consorzio Forestale. È inaccettabile tale superficialità e responsabili di tale leggerezza ne risponderanno nelle sedi opportune. Replica così il Presidente della Commissione Agricoltura, Lorenzo Berardinetti, alle accuse su un presunto conflitto di interessi per la legge sulla forestazione, rivelatesi infondate. Il Consigliere è stato chiamato in causa dalle associazioni Apennino Ecosistema, Lega Italiana Protezione Uccelli e Altura Abruzzo, in merito alla controriforma della legge regionale Quadro per la tutela delle foreste e dei pascoli. Il Comune di Sante Maria è ragiuscito dal Consorzio con un documento pubblico, una delibera di consiglio, ha spiegato Berardinetti. Stessa cosa hanno fatto le amministrazioni di Rocca di Botte e Peretto. Quale sarebbe quindi il conflitto di interessi? Ricordo inoltre i Presidenti delle tre associazioni che la norma è stata appesata per riportare un sistema di equità tra tutti i consorsi e non per favorirne qualcuno. Le informazioni diffuse infondate da rubricare come un grave abbaglio sono resive della mia immagine personale e di amministratori pubblico e pertanto i responsabili ne risponderanno nelle sedi opportune. L'applicazione della legge regionale 3 2014 spiega Berardinetti presentavano criticità ritenute urgenti ed evidenziate da più parti come le associazioni di categorie, le amministrazioni pubbliche, le amministrazioni separate dai beni di uso civico. La richiesta era quella di semplificare la normativa di questo settore. È utile ricordare che su questa proposta di legge sottoscritta e condivisa con l'assessore Dino Pepe la Commissione Agricoltore si è riunita in più sedute e sono stati ascoltati in audizione tutti i soggetti interessati, tra quegli uffici dei servizi territoriali del Dipartimento delle politiche dello sviluppo rurale, il Servizio tutela degli ecosistemi agroambientali e forestali della regione Abruzzo, oltre che le associazioni di categoria CIA, Coldiretti, Confagricoltura, il Corpo Forestale dello Stato, il WBF, le associazioni Salviamo l'Orso e Pronatura. Lutto nel mondo politico marsicano la notte scorsa all'età di 67 anni è deceduto a Trasacco, Gino Fosca, medico di famiglia, è stato anche sindaco di Trasacco. Il suo cuore improvvisamente ha smesso di battere verso le tre di questa mattina, se ne è andato in punta di piedi e con la discrezione che lo aveva sempre contraddistinto. Per decenni è stato seduto sullo scranno comunale come primo cittadino, poi si è spostato alla provincia dove ha ricoperto il ruolo di consigliere durante la legislatura di Antonio Del Corvo e poi di nuovo in comune come consigliere. Si era candidato anche alle elezioni regionali a sostegno di Chiodi, presidente. La sua morte ha dissato dolore e commozione non solo a Trasacco, ma nell'intera Marsica dove era conosciuto e stimato. Filippo Santilli, ex presidente del Consiglio Provinciale dell'Aquila, così ha manifestato il proprio stato d'animo. Se ne aveva una persona buona e generosa, sempre pronta ad aiutare chi aveva di fronte. Conoscevo Gino da tempo, ma nei cinque anni trascorsi insieme in provincia, ho avuto modo di apprezzare le sue qualità di amministratore e soprattutto umane. Dispensava consigli di vita a tutti, grazie anche alla sua lunga esperienza politica e professionale. Con la sua scomparsa, conclude Santilli, Trasacco e l'intero territorio marsicano perde una persona con grandi valori. Alla sua famiglia le mie sentite condonianze. domani, martedì alle ore 10, nella sera consigliare del Comune di Avezzano, è in programma il Forum Cittadino sul Piano Sociale Distrettuale. L'incontro è stato organizzato allo scopo di garantire il massimo coinvolgimento della cittadinanza e dei diattori sociali pubblici e privati nella fase di elaborazione del Piano Sociale Distrettuale. Alla Forum, oltre ai cittadini, sono invitati componenti del gruppo di piano tutte le organizzazioni pubbliche e private operanti a vero titolo nel territorio comunale, nell'area dei servizi sociali, sociosanitari e socioeducativi. Introdurranno l'assessore alle politiche sociali Fabrizio Amatelli e il dirigente del settore servizi al cittadino e progetti europei, Maria Laura Ottavi. A coordinare i lavori del Forum sarà il dottor Gennaro Tornincasa. Le aziende abruzzesi, risultate beneficiarie del relativo bando pubblico, hanno sottoscritto oggi l'atto di confinanzionamento. Vediamo il servizio. Sette contratti di sviluppo locale per un investimento complessivo di 21,5 milioni di euro. Nel pomeriggio i rappresentanti di sette aziende abruzzesi, risultate beneficiari di un bando pubblico, hanno sottoscritto con il vicepresidente della Giunta regionale Giovanni Lolli l'atto di cofinanziamento dei singoli progetti di investimento. La sottoscrizione dei contratti di sviluppo locale chiude il bando di programma Parfex pubblicato alla fine del 2015, per il quale sono stati previsti finanziamenti pubblici per 6 milioni di euro. Anche su questo bando, ha esordito il vicepresidente Lolli, la risposta delle aziende abruzzesi è stata positiva. Abbiamo finanziato sette progetti, ma è nostra intenzione far slittare l'attuale graduatorio in ragione delle economie che ci saranno. È una precisa scelta politica che vuole prestare la giusta attenzione agli sforzi di quelle aziende abruzzesi che vogliono investire e creare occupazione sul territorio. Che per le aziende abruzzesi sia un momento felice, lo ha confermato lo stesso vicepresidente facendo riferimento allo straordinario risultato ottenuto dalle aziende regionali al bando nazionale sulla ricerca pubblica del Ministero dello Sviluppo Economico, dove in gradatoria figurano 50 progetti di imprese regionali su 55 ammessi. Un segnale che la Regione, ha aggiunto Lolli, non ha voluto sottovalutare, aprendo la stagione della programmazione FERS 2014-2020 con il bando ricerca e innovazione di 16 milioni di euro con progetti superiori ai 5 milioni. È una strategia che tende a consolidare il sistema delle aziende che magari non produce occupazione in breve periodo, ma mette in condizione le aziende stesse di rafforzarsi e gettare le basi per investimenti e occupazione. Ascoltiamo a riguardo il vicepresidente della Regione, Giovanni Lolli. Giovanni Lolli, vicepresidente e assessore allo sviluppo economico. Oggi firmati 7 contratti di sviluppo locale di importanza vitale per 21 milioni di investimento complessivo. Com'è e come si è proceduti all'affinamento di queste risorse? Stiamo parlando di un FAS 713. Noi come noto abbiamo fatto una grande corsa e abbiamo cercato di farla però anche con un impegno serio, non semplicemente con l'idea di spendere a tutti i costi, ma di spendere bene per evitare che le risorse comunitarie della passata settennato rischiassero di essere perdute. E tra le altre misure che abbiamo individuato è stato quello di finanziare questo contratto di sviluppo che ha avuto un grande successo tra l'altro sia la qualità dei partecipanti, sia la qualità dei progetti, molti dei quali sono progetti ambientali. Noi siamo stati la prima Regione d'Italia a fare il contratto di sviluppo ambientale utilizzando cioè l'opportunità che l'Europa ci consentiva, quella di finanziare tra l'altro con un'intensità molto forte, il risparmio energetico di un'impresa e molte imprese hanno utilizzato questa occasione. Voi dovete tenere presente che nei fattori di competitività delle imprese italiane e quindi abruzzesi il delta dei costi energetici a causa della bolletta energetica che in Italia è come sapete del 30% più pesante di quanto non sia in paesi concorrenti come Germania e Francia rappresenta un grande fattore negativo per le imprese. Riuscire a intervenire per ridurre questo fattore negativo secondo me è uno dei modi per aiutare le imprese serie e la risposta è stata una risposta veramente importante. Senta Presidente, tra il bando che avete chiuso, quello sull'FSC 713 ed il nuovo, quello che ha aperto la nuova stragione FES 14-20, la Regione ha fatto una scelta diretta verso l'innovazione e verso la ricerca. Qual è e come è stata la risposta dell'azienda abruzzesi? Una risposta straordinaria e io veramente sono da questo punto di vista molto contento e cioè l'esito che ha dato per esempio la partecipazione al bando del Mise, cioè del Ministero per la ricerca. Su 55 imprese selezionate 50 sono abruzzesi e questo indubbiamente è un risultato straordinario. Ma io sto vedendo anche la risposta che, insomma, il lavoro che si sta facendo per rispondere al bando sulla ricerca, quello sopra 5 milioni che noi abbiamo fatto come Regione e anche su quello abbiamo riscontri importantissimi, a parte poi naturalmente gli accordi di programma che stiamo facendo direttamente sia con FIAT sia con l'Istituto Nazionale Fisica Nucleare del Gran Sasso. Stanno venendo fuori l'idea che una parte di questa regione è in prima linea proprio, davvero in prima linea nella, diciamo, nella battaglia competitiva che c'è sui mercati internazionali. Naturalmente ricordo sempre che c'è un'altra parte di questa regione della quale mi occupo continuamente che invece purtroppo è alle presi ancora con il peso pesantissimo della crisi e dove ci sono ancora posti di lavoro che si perdono, posti di lavoro che rischiamo di perdere. In questa parte di mondo, diciamo, industriale non ci sono solo medie e grandi imprese che sono quelle che compaiono poi sui giornali e di cui più ci occupiamo. Non riusciamo sempre a percepire, e invece il problema è grandissimo, il sistema delle piccolissime imprese, quelle che non fanno notizia, quelle che più difficilmente riusciamo a individuare, dove ancora c'è una sofferenza fortissima in Abruzzo e anche una mortalità di imprese molto forti. Fin quando non riusciremo a fare in modo che questa parte che tira, che è una parte molto forte, che si collega al sistema delle università, del centro di ricerca, che sta sui mercati internazionali, insomma che va bene, fin quando non riusciremo a collegarla, facendola diventare in qualche modo il fattore che traina anche la parte che sta più in difficoltà e soprattutto il mondo delle piccole imprese, noi non avremo realizzato quel progetto industriale che con la carta di Pescara abbiamo cercato di individuare. 14.000 posti di lavoro persi, pesante meno 3% alla voce dell'occupazione a fronte del 0,2% su scala nazionale. Abruzzo infonda la classifica italiana, il rapporto Aldo Ronci, commenta il coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, fotografa uno scenario catastrofico sulla situazione che rende patetiche e sconcertanti certe sortite mediatiche dei vertici della regione che evidentemente vivono in altre realtà socio-economiche o credono di poter addolcire la mara medicina ad abruzzese. Il lavoro è la prima emergenza alla quale la politica deve dare concrete risposte e non slogan a effetto e narcotizzanti rassicurazioni del tutto fuori luogo. Il tasso di occupazione in Abruzzo nel terzo trimestre 2016 è stato del 55,2%, valore che rimane ancora più basso del 57,6% nazionale, registrando uno spread negativo di 2,4 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione è stato invece dell'11,1% a fronte del 10,9% nazionale. Questi dati prosegue Pagano confermano purtroppo il trend del 2015 che aveva fatto registrare la pesante flessione di 35.000 occupati non con ancora un record negativo per l'Abruzzo. Persino l'export segnava un meno un 4% a fronte del più 2,4% di media nazionale. Pure il PIL regionale, come rilevato dall'Istat, era il rosso del meno 2,5%, dando da precipitare l'Abruzzo, anche in questo caso in fondo, alla graduatoria. È di tutta evidenza che questi dati ribadiscono lo stato di gravi crisi dell'economia abruzzese e rispecchiano un sistema fragile e non competitivo, anche per mancanza di politiche regionali mirate ed efficaci. Eppure il centrosinistra al governo della regione Abruzzo conclude Pagano. Sossina proclami e promesse, mentre le aziende chiudono e 14.000 abruzzesi si ritrovano espulsi dal mondo del lavoro, con ben poche possibilità di rientrarvi. Viaggio all'indietro del tempo a Cività Dantino, location d'accezione della quarta edizione, della corsa della botte. Una vecchia tradizione rilanciata dal Proloco, dove ben nove squadre, alcune arrivate dai paesi vicini, si sono date battaglie lungo le stradine del Borgo Mediovale, che fece innamorare Christian Zartman e gli artisti scandinavi. Alla fine dell'entusiasmante e non facile competizione, dove non sono mancate sciane davvero divertenti, vista la difficoltà nel tenere le botti sulla rotta giusta, la palma dei vincitori è stata giudicata, la squadra dei disperati. È stata una splendida giornata d'altri tempi, afferma il presidente della Proloco, Tonino di Cesare, affiancato dal vice Paolo Calzetta, nonché da componenti del direttivo e da tantissimi volontari all'insegna del divertimento e dell'amicizia, mirata a mantenere vive le tradizioni e quindi il nostro splendido Borgo per tramandarle alle nuove generazioni. La forte presenza dei ragazzi ci fa ben sperare nel futuro, affinché il paese resti vivo. Alla competizione hanno partecipato anche molti giovanissimi. All'Aurum sarà d'annunzio la prima edizione della mostra fotografica Io sono Noemi, dedicata alla bimba di Guardia Grele, affetta da SMA. La mostra ha come fine quello di sensibilizzare attraverso scatti artistici, la storia di vita e la quotidianità di una bambina speciale di 4 anni che si chiama appunto Noemi. La mostra vuole essere un'occasione per focalizzare l'attenzione dei cittadini più sensibili sulla difficoltà che una bimba, seppur molto piccola, si ritrova ogni giorno ad affrontare combattento, una patologia invalidante con tanta forza, caperbietà e il sorriso. Una piccola principessa è divenuta portavoce di tante realtà, tante famiglie che convivono con gravissime disabilità. Nell'occasione attraverso di lei viene narrato all'enorme carico assistenziale che la famiglia, centinaia di famiglie, si ritrovano ad affrontare ogni giorno con dedizione e sacrificio, rinunciando per costrizione anche al lavoro, un lavoro di cuore silenzioso, quasi invisibile, ma che in verità richiede interventi concreti e l'attenzione di tutti. Nella maggior parte dei casi il peso di una diagnosi così grave ricade esclusivamente sui genitori che hanno bisogno di tutela e di supporto che possa far vivere i propri figli. Comunque venerdì 16 dicembre alle ore 10, apertura al pubblico, invito alle scuole superiori di Pescara, sabato 17 alle ore 17, spettacolo di beneficenza Noemi e il suo magico arcobaleno, domenica 18 aperto al pubblico. Sono 17 i posti di lavoro a rischio nello solo stabilimento di Cagnano, provincia dell'Aquila, all'interno di un piano nazionale della Cementier, più ampio che ne prevede centinaia. Ci sono le proposte del sindacato, ma manca la volontà politica delle istituzioni di mantenere gli impegni presi. I lavoratori del cementificio sono delusi, sostiene Pietro Di Natale, segretario interregionale della Filca Cisra, Abruzzo e Molise, per la mancata convocazione del tavolo di concertazione tra cementer e organizzazioni sindacali da parte della regione Abruzzo e del comune di Cagnano e Miterno, che avevano assunto la regia dell'avvertenza, aperta per il licenziamento di 17 lavoratori dello stabilimento. Abbiamo solo pochi giorni, spiega il segretario, prima dell'incontro al Ministero del Lavoro, fissato per il 19 prossimo, per cercare di ridimensionare gli esuberi dichiarati dalla cementer di Caltagirone. Lo stesso specifico ha potuto rilevare il gruppo Sacci, solo grazie al rinnovo della concessione mineraria della cava di Cagnano a Miterno sulla scorta della delibera, rilasciata proprio dalla regione Abruzzo, che contiene la clausola di invariabilità del livello occupazionale. Di tutto punto, invece, la cementer prosegue di Natale, si è presentata con la richiesta di 260 licenziamenti in Italia, di cui 17 su Cagnano a Miterno. La procedura si chiuderà il 27 dicembre e non si interverrà con proposte alternative. La stessa si concluderà con esito negativo e i 17 licenziamenti diverranno definitivi. Nonostante ripetuti i solleciti fatti dal segretario della felca CISL, le istituzioni tacciano e le speranze si affievoliscono, pur avendo, noi conclude al segretario, le proposte per ridimensionare gli esuberi. Entro settembre 2017 si individuerà la ditta giudicataria dei lavori di funzionalizzazione e riqualificazione dell'ex caserma Bucciante di Chieti. Il crono programma è stato dettagliato nel corso dell'incontro, convocato a Pescara dal Presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, con tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo da un vasto progetto di recupero che discende da un accordo di programma tra Agenzia del Demanio, Regione Abruzzo, Università d'Annunzio di Chieti-Pescara, Provincia di Chieti e Comune di Chieti, sottoscritto nel 2015. Durante il vertice, su richiesta del Presidente, si è anche provveduto a rivedere al ribasso la stima dei costi della progettazione eliminare, esibita nella conferenza di servizi lo scorso 18 luglio. Infatti da un'ipotesi di 8 milioni 200 mila euro iniziali, si è passati a 5 milioni 500 mila euro, fatto salvo il mantenimento in toto dell'entità del miglioramento sismico. L'opera sarà finanziata con il Masterplan. Ad ora passiamo alla pagina sportiva, con il calcio Serie D, importante vittoria esterna della Vizzano sul campo del Città di Castello. 3 a 0 il risultato finale, più che meritato, contro una formazione formata da molti giovani. I tre punti sono fondamentali anche in ottica playoff, dal momento che il campionato propone almeno 4 incontri consecutivi, non proprio proibitivi, a partire da domenica prossima, quando allo Stadio di Marsi scendereà in campo la Torres, ultima in classifica generale. Ma vediamo ora il servizio della vittoria esterna. Un film già visto, quello andato di scena al Bernicchi, con i giovani del Città di Castello, che danno il 100% in campo, e con l'Avezzano che raccoglie l'intera posta in palio. Senza storie, il risultato di 3 a 0 dell'Avezzano nei confronti della squadra di Silvano Fiorucci. La prima occasione della partita giunge al sesto minuto, punizione di vida per il Città di Castello, che sorvola la traversa. Passano una manciata di minuti, e l'Avezzano castiga i padroni di casa dagli 11 metri. Partita infatti in salita per gli uomini di Fiorucci al tredicesimo, quando Dida atterra nel cuore dell'area di Genova e l'arbitro a Campura di Ercolano indica il dischetto ed estrae il cartellino rosso per il giocatore bianco-rosso. Dagli 11 metri Leto spiazza Cosimetti e porta in vantaggio la formazione aquilana. Sotto di un golle con un uomo in meno, il Città di Castello subisce due minuti dopo anche il raddoppio. C'è ancora lo zampino di Leto, che effettua dalla sinistra il tiro cross, Cosimetti non riesce a neutralizzare il pericolo e Marolda spedisce la palla in fondo al sacco per il 2-0 dell'Avezzano. Al quarantatresimo sfiora il Tris, l'Avezzano con un tiro di Serrago, respinge goffamente Cosimetti e Marolda cincischia da due passi. La ripresa si riaccende al quarto minuto con una verticalizzazione di Deramo per Marolda, che a tu per tu con Cosimetti non riesce a concretizzare l'azione sfuma. Al ventiduesimo ci prova il Città di Castello con un'azione che culmina con un tiro dalla distanza di Broccatelli da poco entrato, ma Lewandowski argina il pericolo. Al ventisettesimo Città di Castello che potrebbe raddrizzare la partita sugli sviluppi di un calcio piazzato di Macagno. Lewandowski non trattene la palla e Diego Calderini non riesce ad approfittarne da due passi. Ma al trentatresimo mette i lucchetti al risultato l'Avezzano con Serrago che non perdona Cosimetti e realizza il Tris bianco-verde. Risultato in cassaforte è Avezzano che batte Città di Castello al Bernicchi per 3-0. Sicuramente l'espulsione l'espulsione sul rigore vorrei rivederlo il 2-1 mancato ripeto ripeto l'ennesima storia in 11 contro 10 questi hanno dato tutto quello che avevano si è stato in gara fino alla fine combattuto e gli altri hanno vinto. Da dove riparte mister la luce di questa prestazione anche in vista di dicembre e del nuovo anno? Ma dal far crescere tutti questi ragazzi tutti quanti per migliorare ripeto se migliorare posso abbastare adesso come adesso non lo so certamente stanno dando di tutto e di più ripeto un gruppo di ragazzi che in 10 contro 11 ha dato filo da torcere notevole all'Avezzano che basta solo ricordare il numero 9 loro Marolda con 3-400 pariti in serie B quindi partita non facile perché poi il risultato a volte dà l'impressione che ci sia stata facilitata da parte nostra però poi è una partita molto combattuta sicuramente il rigore e l'espulsione hanno condizionato la prestazione del città di Castello che va d'onore perché è una squadra che ha lottato fino alla fine che ha cercato di fare poi il secondo tempo la partita però 10 contro 11 poi diventava difficile il servizio di sport termina questa edizione del giornale come sempre noi vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antenedoetv.it o sulla nostra pagina facebook Antena 2 Avezzano dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni dunque grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci a presto a presto a presto Grazie.